Appena svegli, oggi petto, ci può stare, ci può stare Ok, 20 grammi di cioccolato fondente, multivitaminico e vitamina C E niente, porto fuori il cane e poi colazione, questo è soltanto per partire, ah si, e tè a strafottere Quasi dimenticavo, creatina di MyProtein, 5 grammi al giorno, easy game, dry scoop, ho due E oggi bisogna darci dentro, sono arrivato la settimana scorsa completamente devastato Ma non posso mollare, quindi si va a strafottere, sono un Wolverine, tanto a me qua la barba Non cresce, fottetevi tutti E niente, oggi bisogna fare pettanza, bello, prepotente E questo è il mio pigiama del cazzo, tutto rotto, completamente massacrato Sembra che abbia letarme, vabbè, ma è il mio preferito perché bianca sembra enorme Mi sparo tutto sta roba qua di tè, col dolcificante E il caffè l'ho già preso, vabbè, il caffè lo prendono tutti questi cazzi Poi oggi pomeriggio si va in palestra, petto tricipiti E niente, è uno dei miei giorni preferiti perché di petto qua noi spingiamo come gli draghi E poi ci si aggiorna dopo, bella Primo pasto del giorno, si vola Allora, come primo pasto abbiamo 65 grammi di fette biscottate 110 grammi di pollo E un uovo intero, più acqua ovviamente a strafottere, bella E ovviamente 10 grammi d'olio per cuocere questa bellezza L'ultima fetta Mentre monto questo video qui Mi sono sparato due mele E altri 10 grammi di cioccolato fondente dopo aver fatto una bella camminata E adesso penso andrò con mia mamma a mangiare piadina con tacchino e verdure Quindi più o meno soli calorie e ci siamo L'importante è medersi le proteine Siamo al top, stiamo andando a fare petto Ando a prendere il mio gym bro Gym bro Che è una bestia cacchio Ho iniziato da pochissimo ma è una bestia E si va Yeah, bene Petto, petto, petto L'uno di 28 febbraio Tricipiti Siamo arrivati alla fine della giornata Chiudo questo video per cena In salata con 10 grammi di olio e sale a strafottere E pollo e purè Al top